Nella sua conferenza stampa di fine anno la Premier Meloni ha fatto il bilancio dei suoi primi due mesi di governo, poca roba in assoluto, però sono sempre significativi anche perché è la prima volta che la Repubblica italiana ha dato il voto a Tunno e ci è rimasto praticamente solamente due mesi per poter assemblare una manovra finanziaria piuttosto pesante. In questa puntata dello schiacciassassi andiamo a vedere alcuni punti salienti. A tra poco! Cari amici di Vivitalia TV, bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elna. Si potrebbe dire che il governo Meloni va e il leader Giorgia Meloni ha fatto la sua tradizionale campagna conferenza stampa di fine anno con la stampa nazionale facendo un po' un'analisi durante i tre ore di dibattito con i giornalisti. Ne ha scaturito uno spaccato abbastanza interessante dove Meloni ha ribadito i suoi punti di vista di nazione, di patria, di riforma dello Stato in senso presidenzialista, che la cosa sarebbe anche interessante da un certo punto di vista. E sarebbe interessante anche che lei puntasse maggiormente su quella che è la trasparenza, la semplificazione di tutti quelli che sono gli assetti istituzionali, perché se dobbiamo andare verso una Repubblica presidenzialista, che potrebbe essere interessante, bisognerebbe anche andare verso una diversa forma di assetto delle autonomie locali, rivedendo anche l'attuale numero delle regioni, 20 che forse sono troppe, e soprattutto anche capire cosa vogliono fare le province e soprattutto poi il comune che è la realtà amministrativa più vicina ai cittadini. Da questo punto di vista non sarebbe male che un presidenzialismo potesse venire accompagnato anche da un forte regionalismo, avvicinando sempre più l'Italia a una Repubblica federale e magari mettendo in pista anche una serie di macro regioni per poter fare economia di scale, per poter assurgere certe realtà economiche e sociali del nord Italia, veramente a campioni dell'Europa continentale. Ma qua si vedrà. Però in questa finanziaria che Meloni è andata un po' a puntualizzare con i giornalisti, sì c'è tanta roba, ci sono tanti miliardi messi in pista soprattutto per combattere il costo dell'energia, però manca ancora una visione di cesura con il passato, perché il governo ha avuto semplicemente poco tempo per poter metterci mano e da più parti si dice che nell'ambito dei prossimi mesi, in particolare verso febbraio-marzo, quando bene o male dovrebbe essere già pronto uno schema di riforma fiscale che il governo Meloni sta affrontando e che vorrebbe portare all'ordine del giorno del Parlamento il prima possibile, lì si potrà vedere cosa potrà venire fuori, anche facendo un primo preconciuntivo di quelle che saranno le spese effettive dell'oneride energetici e quindi gran parte di quei 30 miliardi messi sulla finanziaria 2023, per cui se per caso non dovesse succedere nulla di incomprensibile sull'altro delle conflitti internazionali, delle tensioni energetiche, potrebbe darsi che si potessero liberare delle risorse attualmente impegnate sullo scontro delle bollette e magari dirottarle per il taglio delle tasse, che è uno dei problemi fondamentali di questo Stato, ma soprattutto anche per il rilancio dell'economia favorendo quelle che sono gli investimenti delle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura, che sono la spina dorsale dell'economia nazionale. Però sarebbe anche altrimenti interessante, se non addirittura indispensabile, che già a partire dai primi giorni di gennaio Meloni intervenisse per poter mettere alcune pezze sul sfarcello, sull'ascito negativo fatto dai governi del centro-sinistra e dicesse già subito, visto che lei lo ha dichiarato lei stessa in conferenza stampa, che i provvedimenti che l'Unione Europea vuole fare per mettere fuori bando a partire dal 2035 l'auto con i motori termici, che è una sordità, e da questo punto mettesse subito anche un puntino su lì, per cui dal 2023 i contributi per l'auto elettrica ibrida sono cancellati e sono spalmati su tutti i veicoli a basso emissioni, quindi Euro 6 in particolare e soprattutto per le trasformazioni a GPL, che è la cosa più interessante al giorno oggi per poter abbattere l'inquinamento. Ma soprattutto bisognerebbe che sempre a gennaio la Meloni iniziasse a fare un piccolo provvedimento di abolizione di quei provvedimenti che sono semplicemente, oltre che poco forieri di gettito, sono semplicemente odiosi per l'alliempimento. Pensiamo semplicemente alla storiaccia del superbollo sulle auto potenti oltre i 250 cavalli, per cui oltre a dover pagare il contributo bisogna fare una doppia fila perché questo contributo, questo superbollo non si può pagare assieme al bollo, ma bisogna andare in banca a fare un versamento al 24, il che è la dice lunga sulla cervellocicità di certi provvedimenti. Abolire il superbollo che rende molto poco e che soprattutto penalizza la valutazione anche dei veicoli sul mercato dell'usato e soprattutto per evitare che la gente perda tempo inutilmente per fare un avventimento che non rende a niente, potrebbe essere già un primo piccolissimo cenno per dare un reale contenuto a questo cambio di passo del Stato nei confronti dei cittadini e soprattutto anche delle imprese. Ma poi bisognerebbe anche capire il perché un governo che ha fatto un provvedimento che era condiviso, che era stato caldeggiato da tutti gli enti locali, soprattutto di quelli di montagna come quello dei crediti di carbonio, non sia stato portato all'interno della finanziaria così come era stato portato avanti dalla commissione del bilancio ed è stato espunto all'ultimo momento solamente per un conflitto tra poteri dello Stato. Ecco, se la politica ha veramente il potere, il coraggio di fare, vuole dare una cesura, dovrebbe poter andare avanti a prescindere dai conflitti che ci sono all'interno dei vari ministeri, dei vari soprattutto funzionari apicali dello Stato, perché la politica è quella che deve decidere e i funzionari sono quelli che devono eseguire, punto. Non può essere che il funzionario, soprattutto quando si è di fronte a funzionari che sono stati allevati in un determinato contesto politico e magari sono anche particolarmente sensibili a certe desiderata di certe parti politiche, dopodiché quando si trovano di fronte a un governo che non è allineato ai loro pensieri fanno filibustering e quindi lo boicottano. Non ci sta. Il funzionario deve essere un reale servitore del loro Stato e soprattutto un reale servitore del governo di turno e applicare quelle che sono le direttive politiche del governo, non contrastarle, perché altrimenti non si va da nessuna parte. E anche da questo punto sarebbe quantomai opportuno che al primo provvedimento utile di in passaggio, magari forse lo stesso Bille Provere come qualcuno aveva già anticipato, si avesse il coraggio di riproporre e far approvare questo provvedimento che ha solamente vantaggi per lo Stato perché genera maggiore gettito, ha vantaggi per l'economia perché evita di mandare l'impresa da comprare crediti carbonio sul mercato finanziarizzato e speculativo e quindi fa un accalmeramento e soprattutto la cosa più importante genera risorse economiche assolutamente non trascurabili per tutti gli enti disagiati, gli enti locali disagiati, quelli che hanno le foreste, che le gestiscono anche a favore dell'assetto idrogeologico corretto del paese, a favore delle città di pianura. E non si capisce perché il conflitto tra i vari poteri questo provvedimento basilare, di estrema semplicità, di estremo buonsenso sia stato cassato. Ma poi tra i tanti provvedimenti interessanti c'è soprattutto quello dell'abolizione del rete di cittadinanza per cui non ci sarà più la mancetta di Stato grillina che prosegue senza praticamente limiti temporali, un provvedimento che è stato niente di più, niente di meno che un classico e clamoroso voto di scambio a favore del Movimento 5 Stelle. che ha portato appunto voti laddove i percettori della rete di cittadinanza sono maggiormente concentrati. Ma poi anche sul discorso delle concessioni bisognerebbe cominciare ad avere il coraggio di dire che a concessioni scadute il bene ritorna nella completa disponibilità dello Stato. E qua mi riferisco in particolare alle concessioni autostradali perché non è possibile che l'Italia sia l'unico paese in Europa dove le concessioni autostradali continuano a essere gestite da privati con una rendita di posizione semplicemente fantasmagorica. Prendiamo esempio dalla Spagna che a concessioni esaurite ha già liberalizzato e ha fatto tornare nella piena disponibilità dello Stato e dei cittadini oltre 1500 km di rete autostradale mettendola a pedaggio gratuito. Perché in Italia non è possibile visto che meno male le opere sono state ammortizzate, pagate e realizzate? Sarebbe bello saperlo. Soprattutto nel caso di realtà come l'autobrandolo scaduta già da 5 anni e che gli enti locali brigano per poterla continuare a mantenere la gestione, complice anche che fruttano decine di milioni di dividendi. Ma pensiamo anche all'autovia veneta che fa un provvedimento di cambio di gestione che dovrebbe passare adesso alla società Autostrada e Alto Adriatico che però non si capisce come potrà andare avanti perché la stessa società ha carenze di bilancio e batte cassa nei confronti dello Stato per poter completare la terza corsia. Delle due lune. O è lo Stato che interviene e quindi deve averci la piena disponibilità del bene o altrimenti il privato concessionario non può continuamente andare a battere cassa nei confronti dello Stato Pantalone. Elementare direi. Ma c'è poi anche il discorso della prima casa, del catastro, della riforma. Negli ultimi mesi della scorsa legislatura si è fatto un gran parlare di bloccare la riforma del catastro, però bisognerebbe anche rendersi conto che al giorno d'oggi spesso e volentieri coloro che hanno la fortuna di avere una casa nelle aree semicentrali delle città, spesso e volentieri pagano decisamente meno di quelli che abitano nelle periferie dove le case notoriamente hanno un valore economico di mercato inferiore. Per il solo motivo che essendo più recenti i valori catastrali di registro sono più elevate di quelle delle case vecchie delle aree centrali e semicentrali. Anche qua per una mera questione di equità fatta salva naturalmente la prima casa. Bisognerebbe incominciare a fare una rivalutazione di quelli che sono gli estimi catastrali mettendo in atto quelli che è la realtà del mercato e non nascondendosi dietro il punto del dito per cui non si può fare nulla perché altrimenti si va a passare il patrimonio. Se la prima casa è esente si può tranquillamente rifare gli adeguamenti catastrali di un patrimonio che dopodiché scatteranno quando si troverà di fronte a un atto di vendita ma intanto finché uno è proprietario e ci vive dentro gli sicuramente non cambia nulla. Infine un ultimo passaggio sul tema della giustizia che forse è il tema più delicato del governo che si trova davanti a Zoglio a gestire. Bisogna avere il coraggio di andare avanti, non bloccarsi di fronte ai veti della casta giudiziaria e applicare finalmente quel principio delle riforme che risale ormai a oltre 20 anni fa che non è mai stato attuato, della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti e soprattutto con quest'ultimo gli inquirenti parametrarli allo stesso livello degli avvocati della difesa dei cittadini che sono inquisiti perché altrimenti succederà sempre come è sempre successo che i magistrati inquirenti abbiano un canale privilegiato nei confronti dei giudici piuttosto che degli avvocati e con tutto quello che ne può conseguire e soprattutto bisogna anche mettere nelle stesse condizioni per cui un magistrato che fa, un pubblico ministero che fa l'indagine deve mettere i propri atti a disposizione dell'inquisito e soprattutto fare le indagini che servono anche a favore dell'inquisito non solamente quelle che sono contrari perché spesso e volentieri il magistrato naviga un pochettino a senso unico tirando sempre acqua sul mulino salvo dopodiché vedersi in sede di giudizio magari in quello di revisione in appello in cassazione completamente ribaltata la sua posizione ma con tutto quello che ne consegue soprattutto per la parte privata coinvolta in indagini e soprattutto in cause che dopodiché si svelano in un numero di fatto in termini di reputabilità di spese di ansia di tutto quello che uno può vivere quando ben o mai si trova inquisito soprattutto in un caso o in una casistica penale. Cari amici vicini lontani anche qua vedremo cosa verrà fuori nei prossimi mesi, diamo al Premier Meloni il beneficio di inventario per quello che è perché in soli due mesi non si può sicuramente giudicare la qualità e lo spessore di azioni del governo che comunque dai primi atti sembra sicuramente ben impostato. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e i prossimi sei mesi saranno sicuramente interessanti per poter vedere di che pasta è fatto veramente il Meloni primo e da questo punto di vista il fatto che lei abbia detto che io voglio essere giudicata per quello che faccio e non mi preoccupo di quello che sarà il mio futuro politico ed elettorale ma questo qua diamogli un'apertura di credito perché se batterà quello che promette allora anche i cittadini sapranno anche come premiarla al momento delito. Cari amici vicini lontani in questa puntata lo scacciassassi giungo al termine da parte di Stefano Elena un saluto e soprattutto prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza di andare avanti con questa voce libera, autorevole, indipendente e soprattutto qua dal toro. Ciao!